Siamo qui al tour dei diritti con il pulmino dell'AQ Marche e siamo alla presenza di Luca Ceriscioli che è il sindaco di Pesaro. Siamo qui in Piazza del Popolo dove resteremo tutta la giornata e facciamo alcune domande al primo cittadino. Noi siamo una delle tante associazioni dei consumatori che ricevono finanziamenti insieme ad altre associazioni dei consumatori tramite le sanzioni che l'antitrust fa alle grosse aziende quando vengono sanzionati per delle irregolarità. Questi soldi poi vengono ripartiti nelle regioni che si sono dotate di una legge e vorremmo sapere lei cosa ne pensa di questo tipo di finanziamento delle associazioni di consumatori se lo ritiene giusto perché non pensiamo in effetti sulla fiscalità generale però le nostre attività sono finanziate da questo tipo di intervento. Lei ha dei suggerimenti da fare, delle note su questo tipo di finanziamento nei nostri progetti? Diciamo che anche da un punto di vista generale mi sembra sempre un principio sano quello di collegare l'entrata di una sanzione nei confronti di chi magari è stato vittima dei comportamenti sbagliati che hanno poi generato la sanzione stessa. Per il Comune è una cosa abbastanza abituale per quanto riguarda ad esempio, lo sanno tutti, le sanzioni che si fanno sul traffico devono essere investite in sicurezza stradale così come in campo ambientale c'è una serie di sanzioni che vanno rinvestite nell'ambiente. Mi sembra buona e sana l'impostazione che dice che chi viola i diritti del consumatore debba risarcirlo in qualche modo favorendo l'attività associativa.